Dopo San Valentino Torio, un altro presunto caso di violenza sessuale ai danni di una minorenne. A denunciare stavolta è stata una sedicenne di Vallo della Lucania che ha raccontato di una violenza subita durante la festa per la maggiore età del fratello. Il racconto fatto ai carabinieri ricalca, purtroppo, quello di un modus operandi consolidato e quella che doveva essere una serata di festa tra amici si è trasformata in un incubo. Il presunto stupratore è un 19enne fermato dai carabinieri dopo la festa che ha respinto però le accuse. Non l'ho trascinata dietro al cespuglio, l'abbiamo voluto. Entrambi. Il racconto di una violenza, la versione di un rapporto consensiente. Saranno ora i carabinieri guidati dal capitano, Mennato Malgeri, a provare a ricostruire l'accaduto. Nel frattempo, gli accertamenti medici hanno confermato che la ragazza ha avuto un rapporto sessuale. Il PM Ivan Aniglio e il procuratore Giancarlo Grippo stanno raccogliendo le testimonianze di chi era presente alla festa in località Pattano di Vallo. Non è l'unico caso di violenza sul quale si indaga. Nella stessa sera in caserma è arrivata un'altra denuncia, stavolta da parte di una 46enne, che sempre ai carabinieri ha raccontato di essere stata presa con la forza da un 49enne. Un episodio avvenuto una settimana fa, che per giorni si è tenuta dentro. Troppo grande la vergogna, ma la confidenza di un'amica l'ha convinta a denunciare tutto. La provincia di Salerno è profondamente scossa da episodi criminali che vedono le donne nel mirino, vittime di violenza a testimonianza di un problema che c'è e che non può né deve essere sottovalutato. Solo qualche giorno fa le cronache hanno raccontato del branco di San Valentino Torio, vittima una 14enne stuprata in un garage da 5 coetanee. Un caso finito all'attenzione dell'opinione pubblica nazionale. Attualmente in carcere, i 5 minorenni tramite i propri legali hanno presentato istanza di scarcerazione. Sarà ora il riesame a decidere se lasciarli annisida o propendere per un'altra soluzione.